Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FEPILI dove a causa di lavori si registrano tre chilometri di coda tra Ginestra a Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze, code anche in direzione Livorno. In A12 sempre a causa di lavori, code, traversile e massa in direzione Genova e traversile all'allacciamento Lucca-Viareggio in direzione Livorno. In A1 si ricorda che fino alle ore 18 di domani 18 febbraio rimarranno chiusi i tratti tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna e tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Viabilità della città di Firenze, restringimenti di carreggiate e rallentamenti in via Faentina tra via della Palancola e via Sercambi e in via del Ponte alle Mosse tra via Lulli e via Bellini. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!